ciao ragazzi e benvenuti al parcheggio del tagliagole oggi ragazzi risposta ad una domanda che mi state facendo in tantissimi cosa ne pensi della nuova serie muora appena uscita e soprattutto cosa ne pensi dei prezzi con cui sono stati proposti al mercato però prima ragazzi di vedere cosa ne penso ovviamente parere personale i saluti attenzione fogliettini da tutte le parti oggi salutiamo paolo di sei anni da paderno duniano e papà marco elisabetta di otto anni provincia di perugia non mi dici di dove sei elisabetta non sei bella precisa provincia di perugia e il papà paolo e kevin di cinque anni da messina e la mamma donata ragazzi mi sto portando un po avanti con i saluti ne ho una valanga poco alla volta salutiamo tutti i vostri bellissimi figli se per caso qualcuno mi scappa riscrivetemi via i saluti ragazzi salutati i bambini ricordo salutiamo solamente i bambini le fidanzate ve le salutate da soli andiamo a vedere cosa ne penso di questi muor via eccoci qui ragazzi prima di tutto una bella evidenziazione sul fatto che un parere personale mio vi dico come la penso io soprattutto in questo periodo di aumento dei prezzi praticamente di tutto ragazzi con questi prezzi dei nostri coltelli schizzati alle stelle ognuno la pensa un po come vuole vi dico come la penso io quindi parere personale ragazzi quando ho visto uscire questa nuova serie ho detto che figata che figata veramente belli o a me piacciono tantissimo parlo di tre coltelli da bosco la mannaietta da usare in cucina per sfilettarvi il pesce ragazzi sinceramente non la prendo in considerazione non mi interessa mi piacciono i bei tre coltelli da bosco sono veramente belli cosa cambia rispetto ai classici mora qui abbiamo il casmo ragazzi strafamosissimo cosa cambia che hanno un bel una bella struttura full tang un manico in legno e soprattutto un fodero in cuoio quindi non il solito plasticone dei mora funzionale quanto volete però è un tubo di plastica quando li ho visti ragazzi ho detto che belli bellissimi questi me li piglio perché voglio provarli in realtà quando poi sono andato in basso alla pagina e ho visto i prezzi mi sono cresciuti i capelli mi sono caduti all'istante ragazzi prezzi veramente alti sicuramente non stiamo parlando di un coltello col manico stampato e il foderino in plastica ragazzi il tubo che voi usate per non diciamolo però ragazzi pezzetti di plastica su una lama identen ovviamente qui parliamo di coltelli full tang con una manicatura in legno con il fodero in cuoio ma aspettavo sicuramente un aumento dei prezzi più o meno 100 euro 110 euro 150 euro per il più grande in realtà i prezzi sono veramente schizzati alle stelle vi dico i prezzi che me li sono segnati per quello con lama da 10.9 su spessore 2.5 mi sembra di aver scritto giusto due cime controllate 214 euro e per il più piccolino lama 8.7 2 millimetri di spessore sono 169 euro ragazzi sono tanti 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 soldi potevano essere giustificati da un uso di un acciaio superiore usiamo un crew air usiamo un k390 usiamo un s600v usiamo quello che volete ragazzi sicuro un elmax sicuramente c'era la giustificazione del prezzo ma in realtà la mora ci segnala che è stato usato acciaio inossidabile svedese riciclato riciclato questa parola ma andate in balla un mare di persone mi usano l'acciaio riciclato delle lamiere delle macchine mi usano quello mi usano l'altro tutta roba riciclata in realtà poi andando un po a spulciare in rete sembrerebbe e ripeto sembrerebbe che l'acciaio sia un 12 c27 praticamente quello usato su alcuni mora sul casvolo ragazzi è 12 c27 quindi nemmeno il loro acciaio premium premium tra virgolettone che sarebbe il 14 c28 che è usato sul garber ma il semplice 12 c27 quindi questo acciaio riciclato è un 12 c27 ragazzi ripeto non stiamo parlando di super acciai stiamo parlando di ragazzi l'acciaio che hanno sempre usato semplicemente hanno fatto la manicatura in legno di frassino intagliato a mano attenzione intagliato a mano tagliato a mano non penso che si metta lì l'artigiano nel suo laboratorio intagliare a mano uno alla volta sicuramente saranno rifiniti a mano penso io ragazzi penso io su intagliato a mano saranno rifiniti a mano e il fodero in cuoio molto bello il coltello mi piace una bomba veramente tanta tanta roba a me piace veramente tantissimo tra l'altro più piccolo assomiglia assomiglia scusatemi all'rb3 della esi che mi piace un casino i prezzi ragazzi i prezzi sono altissimi sono altissimi e ovviamente considerando che i mora sono sempre stati venduti a 10 15 euro 20 euro 40 euro il garber che è considerato folle una follia follia garber 14 28 n tubo di plastica 90 euro 85 euro ragazzi non è una follia ci sono tantissimi altri coltelli che costano 100 euro 120 euro e parliamo sempre di 14 28 n manico in g10 gomma plastica quello che volete elwood devi venire proprio qui adesso che sto parlando con i ragazzi però tu ti lecchi non metterti davanti perché sennò è un bordello salute ragazzi salutati mettiti qua sul divano e fai la tua nannina quindi ci sono altri coltelli ragazzi il garberg è ha fatto impazzire la gente perché è un mora che costa 90 euro quindi se il garber costa 90 euro che secondo me sono pure giustificati ragazzi anche altri coltelli ripeto con le stesse caratteristiche costano addirittura di più se il garber costa 90 euro ha fatto impazzire le persone figuriamoci questa nuova serie che costa 239 euro il più grande 239 euro la gente è impazzita perché la mora che ha sempre presentato prodotti super economici ha buttato fuori dei coltelli che costano così tanto però ragazzi parliamoci chiaro un attimo eccolo qua esi jg3 ragazzi questo coltello costa 189 euro 190 euro parliamo comunque di un 9 centimetri di lama spessore mi sembra che sia in 3 millimetri manicatura in micarta ok non è legno micarta e fodero incuo costa 189 ragazzi non è che il 1095 è un acciaio premium che vi costa 100 euro alla barra e se un acciaio che funziona bene non parliamo sempre di non abbiniamo sempre funzionamento ottimale a quanto costa perché il 1095 funziona bene funziona un gran bene ragazzi è un acciaio che costa una stupidata costa veramente una stupidata quindi questo coltello che costa 190 euro ragazzi costa 190 euro al fodero in cuoio una lama in 1095 è un manicatore in micarta questo non fa scalpore non fa scalpore perché perché la esi ha sempre avuto prezzi alti e quindi adesso vengono giustificati nel senso la esi ha avuto i suoi aumenti però dal prezzo alto aumentare a un prezzo più alto ci sta la mora che ha sempre venduto a 15 euro ragazzi voi vedete 239 euro più piccolino 8.7 di lama ragazzi stiamo parlando di questo coltello più o meno come misura costa 169 manicatura in frassino lama in acciaio riciclato svedese che dovrebbe essere 12 c 27 fodero in cuoio avete davanti questo coltello quello della mora costa 169 euro questo coltello ne costa 190 185 adesso ce l'ho lì davanti sull'amnia adesso 184.97 ho appena guardato quindi costa di più questo ragazzi costa di più questo il materiale che uno è inossidabile questo qua è un carbonioso per un acciaio quello ragazzi il costo dell'acciaio del 1095 è come una scureggia vi prendete dieci metri a tre scuregge perciò voglio dire lo scalpore l'ha fatto secondo me tutta la gente che mi scrive hai visto i prezzi sono impazziti non sono impazziti ragazzi hanno prodotto un hanno messo un prodotto sul mercato che può essere equiparato a altri prodotti ragazzi i prezzi sono quelli andatevi a vedere i coltelli della l o della elli come la volete pronunciare ragazzi andiamo sugli stessi prezzi manicatura in legno betula artica per la l e frassino per i mora lama in 12 27 14 28 comunque sempre il solito acciaio svedese e ragazzi fodero in cuoio andate a vedere i prezzi sono gli stessi ma nessuno grida allo scandalo per la l o la elli ragazzi lo gridate per i mora si è spento il monitor magari sono diventato un pochino più scuro perché ho il computer dietro ragazzi vi lamentate dei prezzi dei mori dei mora gridate allo scandalo perché la mora ha sempre venduto elwood di nuovo in telecamera stai lì metto via i coltelli però ragazzi se mi sta elwood sul tavolo no se ne va ok gridiamo allo scandalo ragazzi della dei mora perché i mora ha sempre venduto a pochissimo prezzo pochissimo pochissimo prezzo coltelli a 10 euro che funzionano bene adesso hanno fatto la loro serie che va a equipararsi altri coltelli sul mercato si grida allo scandalo perché i prezzi sono altissimi cosa ne penso sono alti sono altissimi sono altissimi come altissimo questo ragazzi una rapina una rapina 190 e 184 euro cos'era questo coltello in 1095 è una rapina però i prezzi sono questi quindi uno può scegliere se prendere o non prendere puoi dire tutti i prezzi sono alti sono altissimi mi gira le palle non compro più niente però prendersela con la mora perché esce con un prodotto che alla fine ripeto al prezzo altissimo sono d'accordissimo con voi però non va tanto lontano o si equipara a altri prodotti già in commercio che con le stesse misure gli stessi acciaio oppure acciaio dello stesso valore praticamente vengono venduti allo stesso prezzo ragazzi penso di avervi spiegato come la vedo io benvenuto il dubbio di non aver acceso il telefono se non l'ho acceso ragazzi tutto quello che succederà nei prossimi 30 secondi penso che non lo potrete mai sentire toppate le orecchie ai vostri figli spero di averlo acceso se non la rifacciamo ragazzi dai mora dalla lesì che ho preso a paragone dal gatto del tagliagole tutto buona giornata e ciao